Ciao da Svideo! Allora, prima di farvi vedere il secondo tentativo della sfida, della challenge di Ryze per cercare di ottenere Spider-Man Zero, devo salutare due persone che mi hanno chiesto di essere salutati. Quindi, saluto! Enrizz12! Ciao Enrizz12! E poi Cromatico Fang! Ciao Cromatic e ciao Enrizz! Ciao a tutti da Svideo! Ciao, ciao, ciao! Sì, sono qui con Ryze Alpha e con Jacopo. Qua siamo nel secondo tentativo di Ryze Alpha per ottenere la skin di Spider-Man Zero. Questa challenge è il secondo tentativo. Nel primo tentativo è stato un po' sfortunato, anche se è stato bravissimo perché aveva fatto 14 kill, ha fatto vittoria reale, ha fatto però non ha riuscito a raggiungere le 16 kill, che era l'obiettivo della challenge. Adesso riproviamo, e niente, quindi io e Jacopo ci killeremo subito all'istante. Questa volta in terzo, che l'altra volta era in coppia, stavolta in terzo e vediamo se riuscirà a fare le 16 kill. Ah, Bobine Brulle! Allora, sceglie di andare a Bobine Brulle, il nostro Raids. Mi devo accedere a Robine Brulle, per forza. Dove? Ecco. Ehi! Vai! Allora, io guardo Ryze qua. Adesso che mi fa speciare Ryze. Ryze ha fatto due kill per il momento. Ma mi hai batto quando sono lento. Oh! È falso di fianco a uno Jacopo che strisce. ragazzi prendi e buttami da sto tetto ha un silenzio che deve pensare alle sue chili insomma insomma eh che pensi che fa sì 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 quante chili? 3 2 ma adesso ho prenduto lo shield con l'acqua maialina no seriamente quante chili? 2 ok scusa ah no niente me l'hai chiesto già di uuuuuh bravissimo che c'è? che c'è? che c'è? ok ok ah ma il cuore interno è mica ah adesso si 3 chili? ma non è qua no 3? ma adesso ho trovato i chili? no ma è penso oh ah io l'aveva già conteggiato quello la ok 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 bella notate che è come me gioca come me nei momenti migliori rai sicuramente me lo so io di giocare così che è che c'è io? eh? che è che hai detto? niente niente e sbio che hai detto? mi avevo detto no vedete qua è tipo come quando io gioco nei miei momenti migliori gioco così si se mi sentirai sono sono vado vado rinvento allora comunque sono 3 chili vi ci phoo nooo e niente e niente ma che balla ma cosa balla che poi ma poi quello lì ma poi quello lì cioè che balla così se lo vedo un po' e niente allora torniamo in lobby niente Ryze ce l'hai fatta per questa challenge comunque grazie molto piacere che hai provato e e un salutone per tutti quelli che avevano visto questa challenge da Svideo dai 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 Jacopo dopo mezz'ora ciao a tutti mettete like con da dai cip hai